Buonasera, sono Marcello Caramico da Salerno. Ho quasi 50 anni e sono 8 anni che faccio gare, tra cui quest'anno ho vinto la gara all'Irno Comics come premio creatività. Sono contentissimo di venire all'International Film Festival di Ariano Irpino e partecipare come gareggiante, col costume naturalmente da Thor, e mi auguro di vincere. In bocca al lupo alla gara e tanti saluti ad Ariano Irpino, un bellissimo paese.